Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando nel parcheggio sono arrivati gli agenti della polizia municipale allertati dalla ditta di trasporti di Bergamo per cui Darko Stanislievich lavorava. L'ultima volta che l'avevano sentito era stata ieri sera intorno alle 18 per spiegargli di portarsi verso Villa Franca di Verona e aspettare lì. L'indomani avrebbe dovuto recarsi da una ditta della zona per caricare pallini di polistirolo e poi ripartire. In quella ditta però stamattina non si è mai presentato. I titolari hanno chiamato l'azienda bergamasca che controllando il gps del camion si accorta del mezzo fermo. Da lì poi è stata scoperta la tragedia. Stanislievich 45 anni era morto da ore forse da ieri sera. Il suo è l'ennesimo decesso sul lavoro in Veneto l'ultimo di una lista che non si arresta. È stato ritrovato dentro la cisterna del camion che guidava probabilmente asfissiato dai vapori di azoto usato per ripulire il contenitore dopo che ieri l'aveva svuotato del contenuto di perlite alla spezia. L'ipotesi più probabile del perché si trovasse all'interno è da ricercare nel tentativo di scrostare le pareti da residui di qualche materiale rimasto attaccato. Avrebbe dovuto aprire i bocchettoni di aerazione della cisterna ma non l'ha fatto. L'uomo era originario della Bosnia e risideva in provincia di Bergamo. Sul posto oltre ai vigili urbani sono intervenuti lo spisa, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il camion è stato sequestrato. Il pubblico ministero di turno ha disposto la rimozione della salma e il suo trasferimento nel reparto di medicina legale probabilmente per un'ispezione esterna del corpo.